iPhone 4 La stretta non funziona qui Però c'è sempre quattro tacche Cioè di sicuro non è che mettendo qui un dito van giù le tacche eh Poi dipende Se siete in una zona che non prende tanto Secondo me non si vede molto Poi c'è anche il nuovo firmware Firmware Che hanno aggiornato Poi ho notato che si possono fare i video con la luce Un display non si vede niente in pixel Sembra di carta Eccoli un iPad gigante E ora andiamo E son contento E sono vivo e son contento Allora per il momento è tutto Ciao a tutti